I adoro my own forms of failure Quindi salutiamo Drops e Page, adesso lascio la parola a loro Eh sì ragazzi, siamo molto felici perché questo è il nostro primo gameplay sul nostro nuovo canale Vi introduco la partita, questa è una partita su zona di lancio effettuata da me Una partita piuttosto vecchia, ero ancora a livello 47 e non avevo ancora le armi più forti che ho adesso La partita l'ho giocata con un PP90M1 con silenziatore e fuoco rapido Serpente I perk erano Sciagallo Pro, Assassino Pro e Mirastabile Pro Non sarà una partita molto esaltante perché non ci saranno MOAB né nulla Ma sarà semplicemente un ottimo risultato che ho fatto Cioè un 29-5 su downturn Vuoi dire qualcosa Page? Niente, solo che come ha detto Drops siamo molto contenti di fare questo primo video E che ho una persona che è molto speciale perché in questi ultimi tempi ci ha aiutato con il nostro canale Cioè parlo di Red e anche un po' dispiaciuti per l'abbandono della PS3 di Axel Cioè abbandono temporaneo finché non si rifarà la Playstation quindi adesso giocherà su Xbox Comunque Red se vuoi di qualcosa tanto ci manca tanto Esattamente, sei dispiaciuto per la vicenda di Axel Se molto ragazzi non potete capire sono veramente una tristezza Cioè adesso rimango da solo Cioè vabbè non da solo Ci siete anche voi ma il povero Axel ormai si convertisce a quella schifezza della Xbox Comunque se dice PS si dice converte Si convertisce Italiano correggiuto Esattamente ragazzi Episodio 1 di Errori nel Backstage Errori nel Backstage Dai lo chiamiamo così adesso Errori nel Backstage E ho sbagliato E ho detto Vabbè lascia stare E ho detto convergiuto Vabbè lascia stare Non siamo qui per fare errori di grammatica Siamo qua per pettinare Esattamente non siamo qui a cercare l'ago nel ghiacciaio Però Questo gameplay appunto è stato fatto per Io in prima persona esprimo il mio sostegno ad Axel Che Se potrebbe dire che Sono i leader appunto degli svalvolati on the tube Lui, Axel E tra 90 Che purtroppo gioca solo su Xbox Non ho avuto ancora il piacere di conoscerlo Sì sono rimasto alquanto scioccato Quando La solita mattina Vado a fare un Vado a vedere i commenti Le visualizzazioni Sul nostro canale E sono andato a vedere anche sul canale Degli svalvolati Ho visto questo nuovo video Che diceva Led giallo Addio PS3 Ne sono rimasto alquanto Appunto Stupito Ma soprattutto Ferito Proprio a una persona così Che ci stava dando il suo aiuto Dove a capitare una cosa così Intanto qua vediamo Ed è con lo stronzo Con l'MG36 Esattamente Che mi ferma un po' di fila Che ci ferma la feed Vincente forse E niente ragazzi Mò chiediamo Red vuoi fare un po' di pubblicità al canale Perché tanto Sto video dura tanto A proposito Non mi ricordo L'errore di grammatica L'ho fatto Ma Scialla E comunque Questo è il vostro canale Appunto Quindi non parlate troppo Del nostro E anzi Mi piacerebbe sentire Una specie di introduzione Su cosa farete Su A noi piace Sponsorizzarvi Noi piace sponsorizzarvi Perché ci piace Dare sostegno Alle povere vittime No Sto scherzando Svalvolati in the tube Forever Comunque Abbiamo già Spero che tu l'abbia visto Il nostro pre-video Quello che abbiamo fatto All'incirca Due settimane fa In cui introducevamo Ecco Mò lo vado a ripetere Alla gente che non l'ha visto Che forse non interessava Perché non c'era il gameplay Era schermo Con una foto fissa Introducevamo il nostro nuovo canale Spiegavamo un po' Come si chiamavamo Faremo più che altro Moab Partite belle E spesso anche Dei video divertenti Di cose successe O infetti Roba del genere No? Io mi occuperò più Diciamo di partite Con alti score E di Moab Sempre se riuscirò a tirarle Mentre invece Il mio amico Paige Si occuperà di più Di montaggi con cecchini Visto che lui è Un grande appassionato Di quickscoper Sniper Silenziate 360 L'inglese correggiuto Adesso eh Esattamente Sì sì E niente Abbiamo grandi aspettative Per questo canale Perché ci piace Vedere gli altri Che hanno tanti iscritti E tante visualizzazioni Tutto è nato perché Lui vedeva Dzeko E io vedevo Ron Lui vedeva Qua la mia triple feed Intanto Culo Culo Curo E puro Culo Culo Vabbè lui seguiva Che cazzo segui tu? Dzeko Sì Appunto Anche gli svalvolati In dei tube Io seguivo più Johnny Creek Perché mi piaceva La sua ironia E sull xbox Vabbè pure se stava su xbox Non mi frega niente Sempre gamer Sì E appunto Tu invece Red Chi segui tu? Io praticamente Quelli che avete detto Anche Chi altro Jump Puzz Gamersharp Gamersharp pure La mia seconda moglie Tutte queste persone Che ricordiamo Non vanno assolutamente Ma io spero che nella nostra avventura Di youtuber Li conosceremo tutti Che forse Metteranno anche Mi piace I nostri video Sì Io ho la fortuna Di avere appunto Dzeko come amico Sul PSN Ogni tanto Faccio una partitina insieme Ma Insomma Niente di più Anche se sono stato il suo Gestore del canale Mentre è andato in vacanza Comunque è stata una bella esperienza Con il mio tag Gente che Ad esempio Credeva che rispondesse Dzeko Mentre invece Alla fine C'era Riccardo Come tag E gli chiedevano Chi è Chi è Chi è Questo qua Io rispondevo Che ero Gestore Mentre lui stava in vacanza Ma Comunque scusateci Del video Perché L'abbiamo preso Dalla modalità Cine Ma non Capiamo ancora Perché Spesso la mira Tende ad oscillare Poi cercheremo Presto di Registrare Col pvr Cioè Quando ci saranno Più soldi E magari Sarà possibile In quel tempo Giocheremo col pvr Sì Stare semplicemente Un ritardo Nei tempi Perché io Dovevo cercare Questa scheda acquisizione E devo ammettere Che va molto bene Una Logilink Videograbber E Una specie di easy cap Sì Una easy cap Dai ragazzi Manca circa Un minuto Alla fine Manca poco Alla fine Il nostro video Spero che vi sia piaciuto Come diciamo sempre Almeno io Come dico sempre Lasciate mi piace Commenti Iscrivetevi O se no Diteci le vostre critiche Perché servono A migliorare Il nostro canale Esattamente Qui La partita finisce Io finisco Con 29.5 Cosa ne pensi Red Una bella partita Certo Potevi fare molto meglio E lui sempre a criticare Comunque Bella partita Guardiamo Guardiamo qui Ero lì allo 43 Comunque Bella partita Allora complimenti Per i primi livelli Bella Bella Bella